Ok, i mobili raga sono arrivati, eccoli qui, poi dici che si rompono, cioè guardate le impronte delle scarpe, cioè sono montati pure sopra ai pacchi, poi dici in che condizioni arrivano, ma vabbè. Allora, pacchi sono arrivati, ne rimangono due giù, che non so come portarli perché sono due piani lavoro immensi, non lo so come farò oggi. Con queste due callax e i due piani lavoro voglio farci qui proprio un'isola centrale molto grande, vedete poi alla fine come sto arredando con i due scaffali che avevamo preso l'altra volta da Ikea con la Marti, sta avvenendo molto bello l'allestimento, devo dire. Qua devo montare tutta ancora la parte dei gioielli e volevo vederla anche con voi perché qui ci sarà appunto quest'isola molto grande che non vorrei che poi copre tutta la parte dietro, vabbè, staremo a vedere. Poi, questo qui faccio il reso, erano i due scaffali che andavano dall'altra parte in magazzino nell'altra stanza perché uno per montarli, ragazzi, non li dico con queste linguette, una roba, cioè martello, sbattite qua, sbattite là e poi soprattutto sono, cioè sembra proprio carta. Adesso ci montiamo loro. Non lo so come ho fatto, mi sono collati tutte e due, cioè io se vado in palestra è una passeggiata praticamente. Dio, ecco lì, ma no, non vi dico quanto so pesanti. Montiamo sti due. Secondo me, raga, verrà una figata. Cioè io non mi chiamo Antonella, io mi chiamo Antonello. Aspettate, aspettate. Grazie. Grazie. Grazie.